Io ti voglio ricordare cosa tu avevi detto qualche puntata fa e mi avvalgo dell'aiuto della regia Bello cacchio Ah l'hai strappolato Che gioca l'Atalanta che è una candidata a dover vincere quindi vuol dire che è passata in una grossa squadra Cerini che è andato a Varese quindi in una squadra molto importante Torri Torri Ti devo dire che è un 82 quindi ha 28 anni e sinceramente se tu vai a vedere il suo score ma non me ne voglio Torri non è mai stato un grosso score di grande gole a Torri nei numeri No, no, non ho mai avuto la possibilità di giocare perché al di là quando abbiamo visto a Monza che ha fatto una bella stagione l'Albino Letta ha giocato col contagozzo Monza è in Lega Pro La differenza è questa che perde un attaccante che va all'Atalanta che punta la Serie A 28 anni arriva un attaccante che ha sempre fatto la Lega Pro Moscardelli e Patiani A Ma no, ma non dire gatto se non ce l'ha nel sacco In effetti questa è la nuova rubrica Hai pienamente ragione Katia sei attentissima l'unica cosa forse che non è del tutto voglio dire precisa è il fatto che io non ho definito Torri non un bombero ho definito Torri No, no, no ho definito Torri di sicuro aver perso alcuni giocatori l'Albino Leffe là davanti quindi Cellini e Ruopo ho ricordato due giocatori che era la coppia d'attacco dell'anno scorso che hanno fatto molto bene hanno scelto voglio dire Torri ha dato spazio a questo giocatore Tu hai detto un po' come ripiego tra le righe che secondo me che secondo me arrivando soprattutto da campionati fatti da Lega Pro diventava una scommessa però questo risultato alla fine cosa ti fa pensare cambia la idea no, no ma adesso sono uomo di sport quindi sono più che felice e contento poi che un giocatore come Torri in un campionato così difficile come quello di B possa diventare voglio dire in questo momento un bombero quindi giusta fa anche essere smentiti sì, sì, sì e sai che io avevo predetto anche la tua risposta insieme a Paolo Ficara te la faccio vedere subito mai visto che anche questa domenica Omar Torri ha segnato con l'Albino Leffe Omar, Omar Torri Torri ha segnato Torri ha pareggiato 1-1 ha segnato lui ancora? sì, ha segnato ancora lui oh, il terzo gol in 5 partite non è un bomber almeno Buffanti dice che non è un bomber ah, facci tu se non è per lui ti è un bomber no, ho anche provato a spiegare io a Buffanti che non è che non è un bomber in Serie B ha giocato poco perché fino all'anno scorso giocava solo gli ultimi 10 minuti e in 10 minuti spesso non puoi far vedere niente e vabbè ma lui è del suo parere come i cavalli così ha detto e vabbè ma uno che ha 28 anni arriva in B non è un goliador doveva arrivare io non è arrivato in B adesso per un po' di anni che è in B poi era stato prestato a qualche squadra di Serie C alla squadra innominabile no all'innominabile ma cosa dite la smissione? glielo dici a Buffanti e gli dice Buffanti ma io so già anche come mi risponde e come ti risponderà? ma che nel calcio è anche bello essere smentiti è diplomatico è proprio come tutti i procuratori è proprio una diplomazia hai visto Riccardo? ormai ti conosco dai dire di questo ambiente perché avrei già anche predetto la mia risposta hai visto? non c'è